1-1 fra Genova e Fiorentina nella prima partita di Weppe Iachine, lo vedete, è tornato Weppe, anche da questo accessorio, Fiorentina che pareggia a Genova, non una brutta partita, non una brutta partita, è una discreta Fiorentina, per certi versi, perché comunque abbiamo giocato per gran parte del secondo tempo in inferiorità numerica, mi è piaciuta anche la reazione avuta dopo il gol dell'1-0, per me un punto a Genova non è da buttare in questo momento, perché contro una squadra come quella di Ballardini, che comunque da quando ha cambiato tecnico corre, ci può stare, fermarsi, non era semplice, non era semplice, perché comunque, appunto, provenivamo dalle nazionali, poi cambio d'allenatore, un insieme di cose, alla fine, tutto sommato, il pareggio non è un risultato malvagio, assolutamente. In generale, che dire, ho visto, ho visto bene degli elementi, per esempio, ho visto ancora molto bene Vlaovic, ma anche il centrocampo non ha giocato male oggi in generale, Castrovilli, un po' in risalita, Pulgar, non male, anche lui, ha fatto bene la legna, ha fatto un buon filtro, ma in generale abbiamo contenuto bene, anche dopo l'inferiorità numerica, non abbiamo sofferto particolari scorribande del Genoa, in generale, veramente, abbiamo rischiato poco, anzi, nel finale siamo quasi andati più vicini con quel contropiede di Vlaovic a 2-1, peccato per aver preso quel gol, peccato per l'approccio alla partita, però in generale è un pareggio positivo, perché consente di muovere la classifica, consente comunque di andare avanti, di ottenere un punto prezioso contro una squadra che ti è appena sopra e di continuare, appunto, a questa serie positiva per piazzare i risultati che ti possano permettere di ottenere la salvezza. Ho preso, appunto, favorevolmente anche il cambio in panchina, perché Iachini è sicuramente più avvezzo a questo tipo di lotta, e poi anche per la fine della stagione mi dà più sicurezza che non venga confermato per la seconda volta di fila, quindi mi sembra più probabile il fatto che, appunto, a fine anno venga cambiato Iachini e poi si cambi guida tecnica per cercare di ripartire l'anno prossimo, insomma, e quindi anche da questo punto di vista la scelta di far ritornare Iachini la prendo favorevolmente. Quindi, insomma, il ritorno di Iachini non è stata, ovviamente, calcio-champagna, ma non è stata, appunto, neanche una cattiva partita. Per me, oggi, quello che dovevamo fare, ossia muovere la classifica, andare a Genova e non perdere, giocare una discreta partita, lo abbiamo fatto in maniera discreta. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, sempre Forza Viola e arrivederci dal prossimo video.